Sono qui, vieni a capire come fare la riforma, te la spieghiamo noi, non ci hai capito una pazza e gridatelo anche voi insieme a me, vergogna di rugetti, dipendenti pubblici, grazie, perché non possono prendere per culo i lavoratori e i cittadini che... ...proprio perché tutto è nato nella provincia di Firenze, questo è il problema e quindi non è vero che le province non servono a nessuno, guardate Zinglaretti, presidente della provincia, presidente della regione.